buongiorno a tutti ritorniamo a vedere che cosa si sta facendo qua ieri un attimo di stop perché pioveva e non lo so è sbocciato tutto dopo la pioggia di ieri una cosa fantastica adesso vediamo mi sto mi sto inquadrando io arrivo voleva farci vedere anche quello la e adesso non si può più vedere ciao ciao sono sbocciato anch'io è sbocciato dice di essere sbocciato sarà vero sarà vero tibi è sempre sull'orto però buongiorno cosa sta facendo ancora quella guarda la salve rosmarino come diventa tipo vai via da lì pezzemolo qua c'è qualche c'è la girasole che stava massendo guardatelo lì eccolo qui che carino c'è il cappello comunque dicevamo cosa sta facendo lei andando avanti qua con l'epopea l'epopea fatica e non sa sono una mica un rifiuto non è che stai andando a scavare troppo in profondità non so stai andando sui sassi che ci sono qui i sassi ti devo dire sassi non dovrei togliere la sporcissia non so ma in mezzo c'è un po' di plastica c'è un po' di vetro un po' di roba se vuoi io lascio stare però vero tibi lo scavi tu ma parli con loro o parli con tibi? guarda scavi tu tibi? si guarda ci penso io è quello ecco se vogliamo liberare tutto qua bisogna fare questa cosa qui sassi di recupero la terra la recupero la metto la terra dove ti serve il gradino perchè fai il gradino con la terra? beh se ne alzo un po' c'è da fare meno eh ma fare anche con i sassi visto che stai trovando i sassoni santo io con la terra che facevo in tempo alzare già con la terra dopo vediamo cosa mettere voi avete capito cosa fa? il sassone dovresti inquadrare la dai voilà ciao buon lavoro ciao buon lavoro a tutti ciao comunque non vi ho più aggiornato ma se vedete qua il recinto è andato avanti ha mollato un attimo perchè appunto doveva fare l'orto ma qua si è fatto un altro pezzo ieri lì tipo non so cosa stia facendo lo spettacolo del bosco manca questo ultimo pezzo comunque e poi almeno la parte orizzontale è finita poi dovremmo fare la parte verticale e tipo non so se è dato allo scavo allo scavo folle senza trovare tartuffi vero tibi ci servono i tartuffi e tartuffi e tartuffi scavo poi le lucciate ecco insomma comunque è una meraviglia questo sole questa primavera il bosco il risveglio si qua ci sono un po di rami da mettere a posto ma c'è tutto più verde più bello se adesso vi faccio vedere sempre verde ma comunque c'è più verde fantastic comunque ultima cosa poi oggi non vi rompo più le scatole la nostra casetta in cielo panata state è lì la mia bicicletta state comunque attenti alle mie storie le mie cose perchè ci saranno progetti programmi e nuovi incontri che probabilmente avverranno a breve stiamo pensando qualcosina per voi per questi per queste meravigliose giornate qui nel bosco qualche nuovo incontro qualche nuova cosa state attenti eh stetio a presto a presto